Ho beccato l'unica coppia che si resta 400 volte, però, regà. Bresaula, 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 con una raffica incredibile di colpi. Bresaula! Au! Dai Cesare, oh! Mi devo spiaccicare, comunque. Qua, il lato più forte secondo me è a sinistra, qua, regà. Mettete subito la pistola e correte prima, quindi... Piottare, 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 cambia l'arma subito, punto vento, sparo. Non c'è nessuno, tiro, faccio la finita. Boom, visto? Sdraio. Un sciagro? Ancora? Ahahahah! Sono fatto! Adesso mi spiaccico. Ok, signori, si parte 50 sub. 50 sub, se muoiono 25, 10, 5, 0. Ricordiamo che sono team da due, quindi c'è una probabilità in più che rimangano in vita entrambi. Infatti, Bresaula e Hassan sono un team da poco formatosi che cerca di emulare la battaglia. La battaglia. Ma sono separati, sono separati, sono distanti entrambi. Non mi fa vedere la mappa, non so per quale motivo. Buggato. Ci siamo, eccoli qua. Hassan e Bresaula. Bresaula è un team molto forte, molto alla mano, leggero. Si incastra bene con qualsiasi tipo di pasto. Bresaula poteva andare in accoppiata anche con insalata, poteva essere un'accoppiata fortissima. Bresaula non sa... Però Hassan, Hassan va, Hassan la Bresaula. Hassan c'è la Bresaula. Hai i topi in casa? Assolutamente sì, la Bresaula. Topi in casa, però vediamo ancora qua, viene tritato Bresaula. È costretto a rientrare. Hassan cerca di difenderlo. E il Bresaula si è statina subito la dopamina per ripendersi. E il Bresaula si tiene l'avabbraccio. Bresaula è arrestato. Smoke subito, deve andare via. Bresaula è noccato. Dall'altra parte Hassan, però anche lui ci resta. Hassan deve scappare. Hassan c'è un altro. Pure il Gulag. No, mi sa che suappa. Ah, cazzo. C'è la fede. Qua conta il Gulag pure. Ah, porco due. Bresaula è ancora in vita, signori. Quindi ancora 50 sub in palio. E entrambi però hanno perso il Gulag. Sia Bresaula che il medico Hassan. Quindi io starei molto attento. Macello qua. Bresaula, Bresaula, Bresaula con una raffica incredibile di colpi. Bresaula va per il res. Bravo Bresaula qua, mantiene ancora il capo saldo. 50 sub ancora per lui, e Bresaula? Se ti fa vedere il Gulag, scusa, ci metti molto più tempo a dimezzare le sub. Eh, ma infatti è una strozzata, eh. Però già dimezzato da 100 si parte da 50. Quindi ci sta, dai. Vieni su! Hassan deve scappare. Hassan è costretto a correre. Hassan rifai il res. Sì, vabbè, ma qua si restano mille volte però, oh. La spettetta è un po' nasola per le sub, eh. Ve lo dico, regà. Ve lo dico è un po' nasola, eh. Sta spettetta è un po' nasola, eh. Mi pare già un po' assolato, eh. Mi sento già assolato, eh. Hassan! Rientra dentro la casa! No! No! Il team, il team di Jack! Il team di pompa! Bresaula! Bresaula! Au! Dai Cesareo! Però rischia troppo qua, sta vicino all'out, il Bresaula. Con il bus, il bus up, un'arma devastante. Avanza Bresaula. Deve stare molto attento, 66 player rimasti in vita. E il Bresaula. Oh, è mari! Questo dirà delle Bresaule, oh. Vediamo il Bresaula. Oh, non è male il Victus, però, eh. Forse il torneo stasera lo provo, che dite? Quasi quasi, eh. Vediamo ancora Bresaula. Avanza, deve restare. Gli viene mingando un resto, 54 player. Questo resta pure un'altra volta, oh. Dai, però, oh. Poi si sono... Regà, ho beccato l'unica coppia che si resta 400 volte, però, regà. Dagli, oh. Dagli, oh. E dagli, oh. Sparategli, vi prego. Che palle, oh. Ragazzi, 50 sub ancora in corso. Il team Bresaula più Hassan. Non vuole mollare. Nemmeno i droni gli piacciono. No. E lo batte con due colpi poterosi di Victus. Che poi è un coglione questo, perché l'avresti potuto riutilizzare tu, Bresaula. Bresaula, ti serviva a te. Ti serviva a te. Invece hai scelto di... 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 Di non cedere alle tentazioni della tecnologia. Vediamo ancora Bresaula. Cerca di entrare dentro. Apre un po' la porta piano. La Bresaula entra dentro al frigo. Cerca, eh. Sare molto attento di mantenere una temperatura adeguata a questo tipo di partite che si sta facendo molto bollente. Bresaula è Hassan. Durante il Ramadan non può mangiare ed è per questo che viene messo ancora più a disagio insieme a Bresaula che lo tenta con il suo nome. Ma Bresaula decide di salire. In un posto tu puoi fare mille strade. Che sei proprio incastrato, Cristo Santo. Vediamo intorno. Hassan! Hassan sta per perderci. Bresaula. Hassan è morto. Hassan deve essere restato. Bresaula non lo lascia solo. Cerca di restarlo. Ancora 35 persone rimaste in vita. 20 team. 50 resabi in palio. Potrebbero diventare 25 a breve. Perché Hassan e Bresaula potrebbero essere schiacciati da una pesante e poterosa attacco. Ci c'è uno scontro. Mamma mia! Hassan! C'ho una caccola fuori gioco che mi stanta a fastidio! No! Bresaula! Hassan è ancora su Bresaula. Bresaula su Hassan. Ho beccato l'unico team che sto stando a giocare insieme. E si restano ogni 2 per 3. L'unico team l'ho beccato io su 100 team. 100 team ho beccato l'unico. 75 per... Hassan va giù! Hassan ci prova! Sta pingando tutto! Sta aspettando il momento giusto. Bresaula. Bresaula deve restare. Non ha più nulla da perdere ormai. Il suo compagno di avventura è crollato. Potrebbe restare ancora una volta. Può scappare. Sta allaggando il momento suo. Il Bresaula. Bresaula decide di girare tutto a sinistra. Ne vede uno sotto! Il Bresaula! Vuole fare il San Cesaro. 3, 2, 1. Lo chiama. Lo vede. Non vuole chiudere qui adesso. Bresaula vuole mettere una fine. A questa lotta eterna. Aspetta ripollo. Oh! Che... È volato! Che salta ha fatto quello? Oh, regà! Il Bresaula si trova con un tacchino davanti a destra. Deve scappare! In mezzo a un fuoco incrociato. Bresaula! Ancora lui! Abbiamo in tanto Bresaula! M'hai dei! M'hai dei! Che culo! Vabbè, vabbè, vabbè. Ragazzi. Ma ragazzi. Ma che bucio di culo però. Io sarei morto 60 volte. C'è l'impusciabile. L'impusciabile. C'è il team. Dove? Questo sono 50 sub. Questo sono 50 sub. C'è questi sono 50... Te prego, te prego. Dai, oh. Vai, non ce l'hai sotto. Vabbè, però, regà. Cioè, ti prego, ti prego. Dai, oh, regà. Dai, però. Non è possibile, però. Questa è tutta la partita. Sì, questo mo' se mette qua. Non siamo mai più. Questo farm. Farm. Sì, dai! Questa è la cosa? Due. Venticinque. Buono, buono. Venticinque sono buone. Venticinque sub. Malachy e Taker Tank. Taker Tank. Dei ragazzi fortissimi. Non ho mai visto una coppia come loro. Avanza. Vediamo ancora Malachy. Taker Tank, viene preso ancora. Sono 50 sal. Taker Tank, giù. Taker Tank, giù. No, mi dispiace questi. No, questi non sono merita. No, no. No, no, loro no. No, no, no. Loro mi dispiace. Non so durare di troppo poco. 10 sub. La Cruz. La Cruz. Deve andare via da qui. La Cruz. La Cruz. La Cruz. La Cruz. No, no. 5 sub. No, regà. No. Erno Porno. No, Erno Poro e Tero Luppy, ragazzi. Allora. Mi dispiace perché, ragazzi, veramente ci vediamo. 5 sub, regà. Però loro 10 kill. Oh, regà. Questi sono 5 sub in the pocket. In the saccoach. Regà. Questi prend 5 sub in the pocket. Oh, loro stanno centro safe. 8 team. Regà, queste in the pocket. In the saccoach. Regà, trust me. Hanno vinto loro. Loro hanno vinto. Scondano. Cercano di busciare insieme. Guardate lo scavalcamento velocissimo. Oh, oh, oh. Jack. C'era Jack che se stava a fan pisolino. La pistola per il rest? Ma resta adesso? Entra uno, forse. Pericolosissimo. No. C'era uno dietro. C'è intoppa. C'è intoppato. No. Ma no. Ma questo perché ha perso tempo. Ma spara con la pistolina e pro... Zero. Il team di Jack qua. Pro gamer. Pro gamer 11. E gabbet pullover. Mi sono osservato. Ho sculato, bro. In the saccoach. Cheat. Ho capito? Vabbè, oh. Non è stata colpa mia. Hanno sbagliato loro. Non sto a ridere. Non sto ridendo, ragazzi. Mi dispiace. Cioè, posso essere contento. Posso essere contento. Non... Ma... Di come è andata la partita? Ma non per voi. Per voi no. Non sono contento. Ogni volta sono minimo 25 sub, 20 sub che volano. Quindi mi dispiace. Mi dispiace molto. Mi dispiace molto. But I can't afford the saccoach with the subs don't donate because they don't vince. E quindi s'attaccato. Cazzo. È semplice. In inglese, ragazzi. È inglese. In inglese. In inglese. Un po' maccheronico. Costruito. E alcune volte elegantizzato. Ma è sempre inglese. E i team Jack ancora devono uscire fuori. Hanno pochissime risorse. Vengono oldati dal team Predas. Vediamo il team Predas dall'altra parte. Devono spostarsi. No, no. Team Jack viene spapolato. Dilaniato. Letteralmente. Distrutto. Dilaniato. Team Jack fuori dai coglioni.